Per conquistare l'Europa bisogna fare tappa a Bari. Dal capologo pugliese le nazionali maschile e femminile under 18 del basket 3x3 proveranno a staccare il biglietto per Debrecen, città ungherese dove alla fine di agosto ci si contenderà il titolo continentale di questa nuova disciplina. La Puglia proverà a portare fortuna alle due nazionali dopo essere stata baciata dalla buona sorte e dall'ottima organizzazione in occasione dell'assegnazione dei titoli italiani under 18 e under 16 a fine giugno a Castellana Grotte. Il filo rosso di quell'evento si è allungato sino a Bari e alla due giorni venerdì 3 e sabato 4 agosto prossimi presentati questa mattina nella sala consigliare del comune. Sul molo San Nicola saranno allestiti i campi di gara che diventeranno attrazione per gli appassionati ma anche per chi per la prima volta ci si avvicinerà al basket 3x3. Sì l'augurio che ci facciamo tutti perché ovviamente la disciplina è nuova non sappiamo ancora come cercare di insomma farla conoscere e quindi magari questa opportunità questa questa possibilità di essere all'aria aperta e comunque passeggiare incontrare e vedere che c'è gente che gioca a basket il 3 contro 3 chissà magari ci fa appassionare fa innamorare gente e noi siamo ben lieti di accoglierli nel nostro mondo. Delle 36 nazionali in gara 20 maschili e 16 femminili nessuna parte con i favori del pronostico anche se l'italia nel 3x3 femminili a livello senior è stata capace di salire sul tetto del mondo. Chissà se questo basterà a spingere le ragazze dell'under 18 a conquistare la qualificazione per gli europei visto che le avversarie come ammette Angela Adamo selezionatrice delle azzurrine sono tutte agguirrite. C'è da attendersi delle squadre e delle nazioni che sono preparate e si sono preparate ormai da tempo per venire qui per raggiungere questo obiettivo e ormai il 3 contro 3 a livello mondiale è uno sport che è diventato professionistico a tutti gli effetti e quindi non è andiamo e giochiamo ma è andiamo dopo esserci preparati e andiamo per qualificarci ad uno europeo che rappresenterà il meglio di tutta l'Europa. Questo per l'under 18 ma lo stesso anche a livello senior basta pensare che agli ultimi mondiali disputati a Manila dove noi comunque ci siamo qualificati come prima abbiamo vinto la medaglia d'oro ma nelle prime otto squadre c'erano sei squadre europee. Questo per dire che il livello europeo è veramente alto.